ciao e bentornati sul canale bentornati carissimi amici e e buon natale siamo ad halloween siamo ad ottobre siamo ancora a ottobre però ci hanno avvisato che è uscito il catalogo toys center natale 2022 l'avventura del natale e quindi quello di halloween non c'è hanno un sacco di cose però non c'è andiamo a vedere di che cosa si tratta abbiamo il milanese imbruttito che fa da sponsor vediamo pizza out soltiamo gli amici di pizza out grandissimi nico campora lui sono andate a mangiare la pizza allora vuoi diventare anche tu il perfetto elfo di babbo natale vai subito pagina 221 scoppi come fare ma noi ci andremo dopo vinci disney poi guarderemo con calma tutte le varie offerte gioca con me e partiamo subito con i giocattoli per i più piccoli qualche giorno fa qui abbiamo cose per bambini più piccoli addirittura forse ieri sì però ieri ne hai avuti anche tu nessuno di questi però però qualcosa aspetta un attimo vediamo se c'è no non c'è e qui abbiamo ancora gli oggetti per i bimbi solo da toys abbiamo piano le costruzioni macchinine gigantesche una giraffa che sembra un castello vuoi qualcosa di questo peluche inizia il divertimento entriamo e ci alziamo un po di età e abbiamo la gabby do laus gabby è quella che mamma mia cioè ci siamo alzati dietro sì peppa pig io lo guardavo gabby mi ricordo il gatto di gabby bing che guardiamo io mi ricordo la casa peppa pig vabbè famosissima potremmo anche fare qualcosa in più bing abbiamo già visto anche patatine con il senale spiderman pure Hulk spiderman o patrol però siamo ancora però siamo ancora nel regno bambini bambini un po più piccoli sì barbapapa ma c'è orso qua dobbiamo salutare orso ciao orso salutiamo orso allora blu 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 ok thomas and friend abbiamo fatto il l'album delle figurine esatto di blu thomas and friend che una volta era il trenino thomas ha chiamato proprio oddio è vero e lo guardavamo anche era un po' inquietante che carino questi sono quelli che tu li metti qua e ti racconta la loro storia ma non sapevo che hanno messo anche dei personaggi famosi tipo Peppa Pig e Masha io sapevo solamente le chiave classiche io li avevo visti e ho visto in un video queste sono belle ma sembrano delle vere cucine appunto per questo sono belle va bene finti microondi, finti forni a me piace cucinare per finta anche ma fai di là e prepara qualcosa no? beh fai la cosa col salmone molto buona si io faccio tramezzina e salmone e filadelfia sono molto buoni conferma anche la mamma esatto che non c'è quindi non so come faccio a confermare però io l'ho fatto un po' diverso nel senso tipo insalata, maionese filadelfia e salmone tramezzina ovviamente di questi avevi qualcosa ma di questi qui non vedo niente no io avevo e non esistono più quelli che hai visto il drago il drago e la gattina bianca oh la gattina bianca per trovarla mamma mia no la gattina per provare quella gattina tu eri piccola eri di tre anni no la gattina arancione tu non si ma hai presente quella gattina non quella gattina quella gattina quella gattina arancione si quella arancione per trovarla quel natale non ti dico che cosa abbiamo dovuto fare lascia per Trudi immancabile Trudi beh è un bel peluche di ragno che bello no non volete anche voi un peluche di un ragno no è una tarantola una tarantola e qui abbiamo belle e neanche i nero le han fatte si molto gotiche si ma queste sono bellissime le Rainbow High te lo dici tu le LOL LOL immancabile queste sono bellissime io le adoro perché sono tipo fra la LOL e fra la OMG ma fanno ancora quelle confezioni da 300 pezzi dentro non le vedo più na 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 surprise questi cosa sono? Glitter Bates Glitter Babies questi le ho viste le Mermits le inquietanti si chiamano le inquietanti perché hanno gli occhi che vi seguono se voi vi spostate vi seguono con lo sguardo loro vi seguono inquietanti Disney bellissime io c'ho allora c'ho Cenerentola ma non è proprio questa no è di molti anni fa e poi Bell esatto e Ariel Ariel è quella credo di me contro te che continuano a spopolare questa cos'è? non lo so Disney Forever il forever abbiamo 46 centimetri è alta mezzo metro è gigantesca quanto è alta? è alta così mamma va bene Frozen e vabbè Frozen rimmancabile Frozen 2 chissà se faranno mai un 3 questi non li abbiamo ancora pubblicati perché questo esce subito per primo e poi abbiamo preso questo questo fatti vedere il vuoto quello vuoto questo l'abbiamo svuotato di tutto e lo vedrete in una futura recensione Barbie c'è anche l'altra cosa Barbie Extra aspetta vi facciamo vedere anche velocemente la macchinina però qui è bianca ecco qua questa è grande se la piscina allora non si vede qua va bene noi abbiamo rosa della Hot Wheels questa è grande quindi poi abbiamo la casa la casa Barbie io praticamente cos'è questo? il camper con lo scivolo? è la piscina sì ma tu pensavi va in giro eh tira fuori lo scivolo dai tira fuori la piscina con lo scivolo la Steffi non si può vedere la Steffi ho saltato una pagina Polly Pocket io adoro Polly Pocket cioè proprio è è però solamente due ambienti basta io ne ho visto uno in cui c'è la mamma di Polly Pocket ah è vero è vero qui abbiamo invece Harry Potter Forever esatto qui abbiamo le lolli che per alcune cose non sono male dove sta andando? ah una di quelle timbrini esatto poi abbiamo la lolli ancora la carta gigantesca che in realtà sarebbe la Steffi perché uguale alla Steffi vabbè se lo dici tu io mi fido andiamo avanti Nenuco Nenuco e poi Nancy e la di base Miraculous Ciccio Bello dal 1950 a oggi Ciccio Bello ha la vua e vuole te non la canta perché non la so qui abbiamo abbiamo una punturina e va avanti dipinti a mano io mi ricordo che ce l'avevo il ciccio bello mi ricordo ancora forse ce li ho addirittura ancora tre biberon uno con il liquido arancione è vero il liquido rosa è una con il liquido bianco perché era latte anche se il beccuccio era blu è vero e mi ricordo tantissimo quando mi divertivo a fargli le punture con la siringa bambolotti come se piovesse bambolotti tanti bambolotti e ancora accessori per i vostri bambolotti non vi bastano i bambolotti abbiamo anche i cittadini e i craybabies che sono quasi dei bambolotti c'ha le orecchie crybabies crybabies magic tears mille le bff cosa sono sono le craybabies ma cresciute bene adesso crescono anche le craybabies poi le silvani and family noi abbiamo il set io dove non c'è qua no poi non c'è niente oramai è raro quello giochi da supereroi qui va bene ti posso un po' più veloce robin batman joker il enigmista wow belli la parte di jurassic la parte dei gormiti che oramai da 20 anni e passa non possono mancare super things poi abbiamo masters of the universe grandissimi dragon ball dragon ball qui abbiamo among us brawl star i brawl star devi sfondare per forza il catalogo del giocheretto toys superstar che abbiamo ho visto qualcosa di interessante sonic no questo è ancora più interessante le pile sono più interessanti dei robot hot wheels numero uno voi da cosa vi vestite da hot wheels vi vesti da hot wheels si si da hot wheels vado in macchina guido che sono una hot wheels uh vedo mario mario di cui sta per uscire il nuovo film 2023 esce e il trailer è bellissimo si io ho visto tipo ho fatto lo screenshot col telefono si ho visto queste immagini dove c'era dal 1998 credo guarda questa le ruote a trivella e fino al 2023 e c'era tutti e faccia vedere il primo super mario fino a quello di oggi c'era bello pensa che io giocavo al primo e inizialmente super mario era un personaggio all'interno di un gioco che si chiamava donkey kong e il personaggio non si chiamava mario aveva un altro nome che non ricordo successivamente visto il successo preso il personaggio lo inserirono in un altro mondo e lo chiamarono mario e poi arriva luigi super mario qui abbiamo automobili automobilini mezzi di lavoro eccetera eccetera un pezzo alla volta lego friends noi praticamente noi viviamo con i lego friends perché mi ricordo quando abbiamo costruito quel centro animali te lo ricordi a milano non so se abbiamo la recensione che eravamo per terra tipo sul pavimento a piastrelle che montavamo le mi ricordo ancora tipo la zampina del gattino e la zampina del cagnolino come insegna non so perché me lo ricordo iron man lego carino piccio cia piccio e pensa che non era difficilissimo neanche facilissimo bello questo è molto bello questo è bello questo è bello questo è bello questo è bello Harry Potter bello questo è guarda l'auto megalodon a forma di squalo sì questi sono più belli ma senti che bella anche la tigre bellissimo andiamo avanti ah questo si qui abbiamo playmobil non sono costruzioni ma i playmobil li conoscono io e playmobil ce ne ho alcuni qui cominciano con i giochi magnetici cosa sono questi sono costruzioni non lego questi sono bellissimi belli belli impariamo giocando e qui abbiamo la sezione dedicata a tutto ciò corpo umano magnetismo scienza matematica lavagni tavolino fatto a rana con delle gambe di plastica è vero la testa di rana con delle gambe di plastica mi ricordo ancora quando ero a Milano a casa degli zii che l'ho montato tipo erano in un sacco di plastica e io tipo ah che bello che bello lo apro lo attacco le gambe sotto il tavolino e dico che bello che bello guardo la faccina non so neanche se parlavi che bello che bello vabbè vabbè è il mio pensiero può darsi proiettore di stelle corpo umano telescopio mappamondo microscopio io ce ne ho uno tipo degli anni non so di un sacco di tempo qualche confine da rifare esatto qui è gravitrax che sta avendo un notevole successo gravitrax però qui sono libri della giunti si cominciano con i libri e i giochi play doh play doh play doh doh ovviamente tutto non riusciamo a vedere cerchiamo velocemente qualcosa in ogni pagina quelli da colorare non mi piace washimall non mi piace li avevamo fatti ma non no non li abbiamo fatti uno ne abbiamo fatto no abbiamo fatto i cocoro scusate scusate erano i cocoro ai washimall scusate è vero ho sbagliato mia colpa comunque a volte prendo i pennarelli quelli dei washimall che colorano benissimo sono rilassantissimi per colorare io quando magari sono arrabbiata stressata li coloro con quei pennarelli troppo rilassanti a volte mi sporco sulla mano lavo le mani e tutta pulita perché sono lavabili no? hai detto qualcosa? sono lavabili hai fatto anche il gesto con le dita qui è è certo che sono lavabili va bene poi li proverò anch'io perciò quando mi sporco lavo le mani e viene via subito e qui abbiamo ancora disegni disegnare giochi in scatola quindi poco dentista ma mi spiegate perché? no eh lo so non commento giochi con la cacca no comment no comment pure questo tu volevi questo commento tutte le cose si lo voglio ancora io quello è bellissimo questo ha mille anni mi ricordo che era bambino mia mamma e già esisteva il pirata popò nella botte al sicuro schizza come un siluro se gli buchi il popò faceva così la canzone di una volta e andiamo avanti Monopoli in tutte le salse Monopoli Roblox questo ce l'ho l'avevo visto anche Monopoli Roblox lo dobbiamo prendere cioè proprio senza pensarci lo prendiamo va bene poi abbiamo indovina chi ci mettiamo spesso io l'ho sempre voluto sì e io lo batto sempre una volta ma non è vero mi ricordo faremo vedere una partita l'altro giorno gli ho detto c'era c'ha avuto tre chance gli ho detto è questo è lui sì ma abbiamo iniziato allora questa è la racconta abbiamo detto facciamo una partita sì la prima partita è stata abbiamo scelto entrambi senza sapere lo stesso personaggio e poi ha vinto lei però avevamo lo stesso personaggio va bene andiamo avanti giochi scatole eredità risico bellissimo e qui abbiamo il funko pop che poi ne fanno vedere scusatemi ma Peppa Pig sì il profilo ha due occhi e l'altro profilo ha due occhi se la guardi di fronte ha quattro occhi dovrebbe avere quattro occhi ed è una specie di mostro invece gli occhi li mettono nei giocatori a destra e a sinistra poi suoni e sfide quindi pianole chitarre batterie microfono più bello il tamagotchi il primo tamagotchi l'ho avuto il primo tamagotchi il secondo quello che tornava in vita in che senso quello iniziale tamagotchi lo dovevi tenere se non lo nutrivi bene se succedeva qualcosa e moriva prendevi il giochino e lo buttavi non potevi riattivarlo successivamente hanno fatto quello siccome la gente poi ci rimaneva troppo male che si poteva riattivare e ogni volta cresce in maniera diversa le biciclette i bigliardini poi anche non non dargli da mangiare né da bere per una settimana poverino in realtà è digitale qui il gran finale io gioco a un gioco che si chiama club roblox e io ho dei figli cioè ho adottato dei bambini un club roblox va bene questo era il catalogo il catalogo della toys natale 2022 ci abbiamo messo parecchio se vi ricordiamo di iscrivervi al canale mettere la campanella mettere un like condividere il canale e il video e commentare e noi come sempre vi saltiamo e ci vediamo al prossimo video ciao